Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere in base al quale vengono rilevati i prezzi al consumo. Il 2014 ha fatto registrare 21 new entry a fronte di tre sole uscite. L'aggiornamento tiene conto delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie e arricchisce in alcuni casi la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati. Questo è il caso del giornale quotidiano online che entra nel paniere Istat andando ad integrare la voce giornale quotidiano già presente e riflettendo così i cambiamenti dei comportamenti di spesa delle famiglie che oggi sono più tecnologiche e decisamente orientate a consumi veloci. Assumono più importanza oltre all'informazione anche cultura, spettacolo, prodotti alimentari e servizi sanitari dentro il notebook definito ibrido ovvero il portatile che può diventare tablet tramite tastiera di staccata. La sigaretta elettronica, il formaggio spalmabile in confezione, i sacchetti ecologici, le cialde per il caffè. Escono invece dal paniere le spese per la riparazione del televisore o del computer, mentre lo yogurt biologico e il tailleur vengono sostituiti rispettivamente dallo yogurt probiotico e dall'abito femminile. Rimane da capire quanto la scelta di inserire nel paniere i quotidiani online possa incidere sul calcolo dell'inflazione. Se da una parte è vero che i numeri intorno all'informazione online sono enormi, quasi totalitari, è anche vero che quasi tutta l'informazione online è fruibile gratuitamente e solo una minima parte viene acquistata, dunque va ad incidere direttamente sui consumi in senso stretto.